Sono contento, siamo soddisfatti, rispetto all'anno scorso abbiamo inserito qualcuno, abbiamo rinforzato i ranghi e negli anni ci siamo amalgamati bene, quindi sono soddisfatto. Il nostro motto è comunque il divertimento, siamo persone che ormai abbiamo passato i 40, quasi tutti, quindi l'esperienza conta, le gambe cercano di tenerle vive. Però l'obiettivo è quello di arrivare primi? L'obiettivo nei primi, voglio essere un pochino più modesto, poi se arriviamo primi siamo contenti. Senti, dammi un po' un giudizio sulle squadre che avete incontrato. L'abbiamo trovata abbastanza omogenee come preparazione, quelle che ci danno più filo da torce a volte non sono quelle più preparate tecnicamente ma quelle più giovani, proprio per il fatto dell'età. Noi per il momento resistiamo a non fare l'over 35, l'over 39 perché ci piace calciare, correre, ci crediamo. E quindi quelli giovani ci fanno un pochino più penare. Però ecco, un campo a sette riusciamo ancora a contenere il divario. Grazie. 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 Grazie.